Miei cari ragazzi, miei cari amici di San Catauro, vicino o lontano io penso sempre a voi. Uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità. So che a San Catauro c'è tanta gente che mi vuole bene ed è per questo che ho deciso di fare un viaggio e venirvi a trovare, per camminare insieme a voi per le vie della vostra bellissima città. Io arriverò sabato 9 novembre alle 15 all'oratorio Salesiano e mi tratterò con voi per l'intero pomeriggio. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto tutti. Grazie a tutti.